Il freddo invernale sembra essere giunto anche a Gambarie e la località si prepara ad accogliere gli appassionati di divertimento e montagna. L'amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte guidata dal sindaco Francesco Malala segnara l'arrivo della neve seppur in quantità limitata di 15 cm sulla pista azzurra. Nonostante non sia sufficiente per sciare, questo evento entusiasmante proietta la località verso la stagione invernale. L'amministrazione comunale, grazie ai collaudi rapidi della cooperativa Aspro Service, ha già reso disponibili le tre seggiovie Telesi-Azzurra e Nino Martino ed ha predisposto servizi navetta, parcheggi in zona Cucullaro e il popolare bus della neve per agevolare la viabilità con il supporto del gruppo di protezione civile comunale. Contemporaneamente sono in corso i lavori per il rifacimento della seggiovia di piazza Mangieruca-Monte Scirocco con rilievi e indagini geologiche in corso. Insomma, Gambare da Spromonte è quasi pronta ad accogliere i turisti della neve.